Nel 1958 Don Fiorino, parroco di Barbaresco, riunì 19 agricoltori e fondò la produttore del Barbaresco per la qualifica e la garanzia del Barbaresco. Essi si resero conto che insieme avrebbero potuto ottenere molto di più che da soli e così iniziarono un cammino che avrebbe portato la produttore del Barbaresco a diventare un'icona dell'enologia piemontese. Non le prende, dicevo, ma sono mica pesanti, ma dopo un po' che cammini diventerò pesanti. Musica Qui la vendemmia è ancora un momento di festa e di lavoro insieme, così come lo era 60 anni fa, uno sforzo comune per raggiungere l'eccellenza. Musica 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 Anche gli obiettivi di allora sono stati pienamente centrati. Grazie alla dedizione e al lavoro dei viticoltori che l'hanno creata, la produttore del Barbaresco è da tempo considerata tra le cantine più prestigiose della zona ed è un esempio per le cooperative di tutto il mondo. Musica Musica Musica